Aumento dei prezzi per contrastare il dilagante abusivismo. Bar e ristoranti si mettono insieme a Marsala, come non accadeva da tantissimo tempo, e pubblicano un listino prezzi unico a garanzia della qualità dei prodotti somministrati alla clientela. Un modo per dire che al di sotto di quella soglia proposta vuol dire che c'è puzza di bruciato, perché i ricavi non possono essere giustificativi dei costi, se chiaramente un'attività in regola. E' quasi un grido di dolore quello delle attività ristorative della città, che siano bar, pasticcerie, pub o ristoranti. La crisi ha colpito inevitabilmente anche loro, ma in realtà non è solo l'effetto della congiuntura economica tutto il male. Anzi, c'è proprio il fenomeno dell'abusivismo che in realtà incide più di tutti. Quando in nero ci sono pasticcerie o paninerie improvvisate, che sono parzialmente o per nulla in regola, è chiaro che si viene ad alterare il principio della sana concorrenza. L'iniziativa degli esercenti marsalesi di pubblicare una sorta di listino prezzi, che prevede anche a qualche retocco all'insù, ha un suo obiettivo. Innescare un meccanismo di condivisione di prezzi, si legge senza peraltro avere obiettivi di fare un cartello, ma garantire un rapporto migliore tra qualità e prezzo ai clienti. L'obiettivo è anche quello di fare chiarezza su alcuni aspetti legati all'abusivismo, sempre più dilagante, nel settore della ristorazione da bar. A sottoscrivere questa nota sono in tutta una ventina di attività del centro storico, la quasi totalità tra bar, pub, paninerie, pasticcerie e attività similari di somministrazione di alimenti. Ora però, tale iniziativa vuole soprattutto smuovere il comune affinché inneschi anche quelle attività di controllo per contrastare all'abusivismo. Sempre più spesso si trovano pasticceri improvvisati, chef che svolgono la loro attività a domicilio, sostengono ancora nella missiva, o attività commerciali che svolgono servizi aggiuntivi per i quali non sono provvisti di regolare autorizzazione. Questo gruppo di gestori non ci sta e chiede maggiore chiarezza sull'argomento, volendo incontrare il sindaco Alberto Di Girolamo, l'assessore alle attività produttive Antonino Barraco e il comandante dei vigili urbani Vincenzo Menfi. Sono diversi infatti i bar che cucinano cibi come i ristoranti, ma che non hanno l'autorizzazione per farlo. Su questo fronte sono scattate diverse sanzioni negli ultimi mesi. Altri interventi hanno riguardato i locali che avevano occupato spazi pubblici, anche questi senza autorizzazione o con autorizzazioni non rispettate.